Il libro del profeta dice, se è mandato, si ritrae da tutti i peccati, da tutti i peccati e osserva tutti i miei peccati, e addice con giustizia e benvenuta, e il libro non lo dirà. Nessuna delle vostre conferenze sarà diventata, ma mirà per la giustizia che ha diventata. Forse io, il piacere della morte è diventata, dice il Signore Dio, o non un cosco che esista dalla sua condotta e prima? Il Signore Dio esiste da lì giustizia a grande pressa, e addice con giustizia e benvenuta, e di favore per se stesso. Allora tu, si è allontanato da tutte le vostre conferenze, e di certo che va, e non morirà, valora tutti i miei peccati. Ripetiamo insieme. La grazia del Signore è da sempre, e il tuo inferno. La grazia del Signore è da sempre, e il tuo inferno. E che mi ritorna a tutte le vostre conferenze, qualisce tutte le vostre conferenze, salva dalla vostra natura, e di colora la grazia che vince il tuo inferno. La grazia del Signore è da sempre, e il tuo inferno. La grazia del Signore è da sempre, e il tuo inferno. Come il cielo e il tuo inferno è da sempre, e il tuo inferno, e come il inferno è da sempre, e il tuo inferno, e come la grazia del Signore è da sempre, e il tuo inferno. Alleluia, alleluia, alleluia.